Un giochino rossini così non si era mai visto prima d'ora. Lontano dagli ambienti classici e della musica, è calato all'interno di bar, gelaterie, parrucchieri, pizzerie, insomma nel quotidiano di tutti i giorni. Il tutto grazie al lavoro dell'artista Giovanni Rossi in arte Joe Ross, che nell'anno di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, ha pensato di far vivere anche ad uno dei personaggi più celebri della città questa storica nata attraverso le abitudini del quotidiano. Ho cercato di creare un contesto in cui appunto Rossini potesse esaltarsi, quindi in ogni attività umana che lo poteva appunto caratterizzare, ma allo stesso tempo credo che l'idea abbia a che fare con una sorta di inconscio collettivo e quindi riportare alla luce in qualche modo anche le abitudini di Rossini, che era anche un personaggio, come dire, molto godereccio in questo senso. Questo quadro in particolare mette in evidenza il piacere del caffè, il piacere di bere il caffè, assume una veste, ha un colore, è un'indole particolare, però ha a che fare sempre con, in ogni caso, l'atmosfera della musica, ha a che fare con un'entità artistica in questo senso. In questo senso ho cercato di calare la figura, quindi l'icona immaginaria e anche dell'immaginario collettivo di Pesaro, quindi attraverso le varie attività, quindi il quotidiano, quindi la gestualità e anche le abitudini del pubblico giorno dopo giorno. In questo senso anche per coinvolgere le persone e quindi catapultarle in qualche modo nel mondo di Rossini, che appartiene all'immaginario collettivo di Pesaro. Opere, quelle realizzate da Gioros, che proseguono un cammino di studio e di lavoro iniziato anni fa dall'artista, che si rivolge al mondo dell'intelligenza artificiale. In qualche parte ho adottato un'intelligenza artificiale, anche se ho dovuto manipolare molte parti di ciò che ho trovato, nel senso che agisco un po' come agivo quando creavo delle forme con la plastilina. Io adotto anche dei programmi in cui appunto i volti, che possono appartenere anche a figure non inerenti a Rossini, ma che assomigliano a Rossini, non solo delle persone amiche, delle persone che incontro, li fotografo e poi li manipolo. Li trasformo nella figura di Rossini perché ho trovato dei tratti, delle consonanze che appartengono appunto all'immagine, ai tratti fisionomici di Rossini. In questo senso il quadro vive sempre come una sorta di collage, nulla sorge d'incanto. Dunque ho cercato di assemblare tante parti, cercando di creare anche delle immagini, come dire, ironiche, coinvolgenti e anche in qualche modo vicine, quindi al pubblico e soprattutto appunto le abitudini quotidiane di questa città. Quindi anche in onore di Pesaro Cultura 24.